Segnali di ripresa congiunturale lenti e timidissimi che si estendono in un quadro economico che rimane fragile e la fotografia scattata da Banca Italia nell'aggiornamento congiunturale del primo semestre 2016 sull'economia della Calabria illustrato a Catanzaro. I risultati della ricerca sono stati presentati dal direttore della filiale calabrese Sergio Magarelli e dai componenti del nucleo di ricerca dell'istituto Giuseppe Albanese e Antonio Covelli. Questi segnali di recupero si basano su una lenta, appena avviata, iniziale, timida ripresa congiunturale. Ripresa congiunturale che è manifestata da una serie di indicatori molto più diffusi di quelli dell'anno scorso. La presenza in alcuni settori importanti come il fatturato delle imprese e le previsioni per i prossimi mesi è presente anche nella situazione dei prestiti un certo maggiore attenzione alle occasioni economiche da parte del sistema creditizio non solo locale ma anche da quello delle principali banche che si traduce per le principali banche in un minor calo, però in una crescita concentrata per ora nel settore delle famiglie e comunque una crescita degli impieghi e quindi finalmente una certa inversione di tendenza verso il settore famiglie. Questi segnali diffusi hanno due motori principali, possiamo sintetizzarli in questo. Il primo motore è quello dell'utilizzo ovviamente dei fondi pubblici, dei fondi che derivano dal piano regionale, fondi che sono sia nazionali che europei e che possono essere un grande motore di sviluppo. Sì ovviamente ben indirizzati e ben utilizzati. E l'altro motore molto importante anche per il nostro punto di vista è quello della, come parlavamo, di maggiore attenzione, di un certo allentamento delle condizioni creditizie, dei prospettive e di attese più ottimistiche verso la situazione del credito e l'offerta da parte delle banche con maggiore ampiezza sia per quanto riguarda le condizioni praticate sia proprio la possibilità di erogare credito. Questo non ci porta ad essere ottimisti prima del tempo, però ci porta a valutare con positività questo clima di attesa, di aspettativa da parte degli operatori economici. Grazie. 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 Grazie.